stasera sono particolarmente contenta perché vi propongo una delle mie ricette preferite le mie polpette di salmone con porro stufato e salsa di soia zenzero e sesamo se vi piacciono i sapori asiatici come alla sottoscritta questa è la ricetta che fa per voi grazie a tutti 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 grazie a tutti